Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi un'occhiata al calendario andremo a concludere il mese di marzo affrontando il verde e brema Ma ragazzi siamo sempre più vicini alla conclusione di questa stagione Però la situazione è ancora tutto in bilico, può succedere qualsiasi cosa sia in campionato ma soprattutto anche in coppa Visto che siamo in corsa e quest'oggi vedremo la semifinale contro il Bayern Monaco Quindi ragazzi ovviamente oggi puntata molto speciale e particolare Come sempre ragazzi però prima di iniziare vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi Anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità A seguirmi sulla pagina Instagram e a sostenere il canale tramite un abbonamento e ad una donazione Detto ciò ragazzi io andrei semplicemente in campo, Armina contro verde e brema La situazione in classifica ci vede sempre con 6 punti in più rispetto al Bayern Monaco Però occhio ragazzi che ormai mancano 9 giornate al termine del campionato Quindi siamo veramente agli sgoccioli e ora bisogna fare più attenzione se si vuole credere in questo miracolo Comunque miglia formazione possibile al 100% vedo qualche diamantino giallo Evidentemente hanno bisogno di giocare un po' di più Comunque devo cambiare il programma di allenamento Però se lo vado a cambiare adesso poi si stancano troppo Quindi in questi casi preferisco lasciare le cose come stanno Quindi scendiamo in campo, tanto con lo stoccard faremo qualche cambio, un po' di turnover E là le cose dovrebbero aggiustarsi da sole E oggi subito Duranville, avanza Duranville L'appoggio bellissimo per Conate che può subito sbloccare la partita E ci riesce 1-0 Praticamente ragazzi possiamo parlare di kick-off Perché Duranville è partito come se fosse un kick-off Va arrivato l'assist per Conate che col sinistro non sbaglia 1-0 Si mettono subito bene le cose Faccio Duranville, recupera un super pallone L'appoggio dentro per Conate che la può piazzare col sinistro Ma qua Arachiri difensivo da parte del verde Brema che regala letteralmente il pallone a Duranville Che sì, bravo a crederci Però sicuramente il verder poteva prestare molta più attenzione E qua bravissimo Duranville ancora che sforna un assist E Conate col sinistro non sbaglia 2-0 Doppietta E occhio Duranville Può andare Duranville ancora un pallone recuperato Incredibile Incredibile Ma stavolta Duranville non riesce ad arrivare al goal Né con l'assist né col tiro Sarà a calcio d'angolo Che batte Mbappé col sinistro Cioè da solo Conate che spacca la traversa Palla che rimane lì e chiarodia La mette fuori Era più facile segnare che sbagliare Il dragone ancora il corridoio per Duranville Che ragazzi oggi è scatenato Duranville Gli manca solamente il goal Che arriva puntuale 3-0 dopo mezz'ora Oggi ragazzi veramente impressionanti Venivamo da qualche partita un po' balbettante Dove effettivamente non stavamo giocando benissimo Devo dire che oggi mi sembrano in forma Possiamo ancora andare Duranville in aria Duranville Duranville l'appoggio per Mbappé A cercare Conate che può girarsi Non sciavanza ma qui Non riesce ad inquadrare lo specchio della porta Qua brutto errore E termina anche il primo tempo Bene così ragazzi 3-0 per noi all'intervallo Potevano essere anche 4 se non di più Ragazzi oggi veramente partita superlativa Da parte nostra Il Werder Ancora deve scendere in campo C'è spazio per il Werder Brema Arriva il miracolo Da parte di Kerkchen Qua prima occasione pericolosa Per il nostro avversario Arriva il settantesimo E devo dire che Kerkchen Compia anche un bel miracolo Comunque ragazzi Sostituzioni come sempre Dentro di Benedetto e Urric Al centro campo In attacco Sonko Momolu E Scholz Ok ragazzi di Benedetto Riesce a divincolarsi E va da Sonko Che ha spazio Sonko Messo malissimo Per il Werder Brema Sonko Riesce a passare Può provare anche il destro a giro E trova il super gol Del 4-0 Che chiude definitivamente Il discorso Come se ce ne fosse bisogno Comunque qua veramente Bellissimo gol Bellissima giocata Da parte di Sonko Che si regala Una gioia personale Ok ragazzi Alla fine arriva anche il fischio finale 4-0 Nettissimo Super partita Da parte nostra Oggi è stato veramente Un dominio assoluto E non c'è stato un giocatore Che ha giocato male Oggi Anche Kerkchen Alla fine Attenzione che il Bayern Monaco Perde 1-0 In casa contro l'Ausburg Comunque stavo dicendo Anche Kerkchen Che alla fine Ha dovuto fare poco Si è reso Comunque protagonista Di quella bella parata E adesso ragazzi Allora È il momento di affrontare Lo Stoccarda 16esimo in classifica La classifica dice Che abbiamo Tanti punti di vantaggio Allora Il Bayern Monaco Ha ragionato in più Ora come ora Abbiamo 8 punti Rispetto ai nostri avversari Quindi potenzialmente Possiamo andare A più 11 Quindi questo vuol dire Che il Bayern Monaco Oltre alla sconfitta Con l'Ausburg Con l'Ausburg Si è fermato ancora Però la dice Che ha vinto 4-1 Quindi ho fatto Mali conti Sì infatti ragazzi Ho fatto mali conti Hanno vinto Sono un cretino Hanno vinto Hanno vinto Contro i Mainz Sono tornati a M-6 Se riusciamo A vincere Contro lo Stoccarda Torneremo A più 9 Grazie proprio Alla sconfitta Che hanno subito Contro l'Ausburg Ovviamente Ragazzi Allora Tutto questo Per dire Che adesso Con lo Stoccarda Chi faccio giocare Perché fra due giorni C'è proprio Il Bayern Monaco In Coppa Ecco Con la Coppa Effettivamente È un po' diverso Però sicuramente Devo fare dei cambi Questo è poco Ma sicuro Vediamo un attimo Io ragazzi Addirittura sarei propenso A scendere in campo Totalmente Con la seconda squadra Con il rischio Che però Possono succedere cose brutte Lo Stoccarda È sedicesimo in classifica Quindi È una situazione Un po' particolare Però andare addirittura Con la seconda squadra A completo Mi sembra un po' Eccessivo Quindi Io direi Di provarci comunque Ed eventualmente Ragazzi Faremo le sostituzioni Al termine del primo tempo Vediamo un po' Ragazzi Comunque Mjolnitz E Belkaia Come centrali difensivi Repiker Ulrich E il buon Di Benedetto Sonko Momolu E Scholz Lo so ragazzi È un rischio Gigantesco Immenso Clamoroso Però io mi sento Di fare Questo tentativo Ovviamente Kerkce Non lo lascio in campo Perché Beren C'è gioco Era in coppa Ovviamente Oggi Visto che c'è Belkaia Con la fascia Al braccio Poi ragazzi Per quanto riguarda Vabbè Calcitango Eccetera Eccetera Facciamo battere Repiker Allora Ragazzi Tutto pronto Partita che è Molto tesa Questa qua La devo giocare bene Per la formazione Che sto schierando Comunque direi Comunque Specifico per l'energia A tutti i titolari E prestazioni Per il resto È un rischio Anche questo ragazzi Perché poi C'è la possibilità Che tutto il secondo tempo Lo debbano giocare I giocatori più forti E quindi poi potrebbero Arrivare stanchi Per la partita Contro il Bayern Vediamo ragazzi È tutto molto improvvisato Ma Seguiamo l'istinto Vediamo un po' Che cosa succede Quindi Tutto pronto Scendiamo in campo Concentrati Vi faccio subito Lo Stoccarda Estremamente pericoloso Con Ghirassi Che prova a metterla dentro Arriva la gran parola No Perchè non l'ha toccata Pensavo Avesse fatto un intervento In nostro quartiere Invece il pallone Uscito direttamente fuori Comunque ragazzi Non siamo partiti Benissimo Come immaginavo Quindi Occhi aperti E proviamo A giocare Il nostro solito calcio Anche con la seconda squadra E occhio a Momolu Possiamo distenderci Sonko Condare Sonko Andiamo un po' Riaci a penetrare Sonko Il destro da porto di Sonko Arriva la parola Dalla parte di Bitolo Che mette il pallone In calcio d'angolo Qua Super opportunità Bravissimo Sonko Ma forse poteva essere Un po' più preciso Qua brutto calcio d'angolo Da parte di Repiker Ulrich qua Che esagera un pochettino Comunque Di Benedetto Allarga Per Wattara Che sbaglia tutto Bravo Ulrich Che palla Che recupera Ulrich Avanza E un po' Ulrich Occhio al movimento Di Momolu Bellissimo Il taglio E Momolu Col destro Mette il pallone In porta Qua bellissimo Sì il tiro Ma soprattutto L'assist Da parte di Ulrich Che mette un passaggio Veramente al bacio Bellissimo 1-0 Si sblocca la partita Meno male ragazzi Perché La situazione secondo me Poteva diventare Poi a lungo andare Complicata Ma alla fine Qua Ulrich Con una giocata La Toni Kroos Riesce a servire l'assist Per Momolu Che non sbaglia Iocchio a Momolu Buona avanti Sunco Sunco Trova subito Il quarter A doppio Meno male ragazzi Sunco Qua si è ritrovato A tu per tu Con Beedle E non sbaglia Meno male ragazzi Meno male Perché Mi rassicura tantissimo Questo primo tempo Da parte nostra Stiamo reagendo bene Nonostante La seconda squadra Poi ragazzi Fortunatamente Tutti i giocatori offensivi Sono giocatori che poi Entrano sempre Puntualmente in campo In ogni partita Quindi Hanno secondo me Una condizione giusta Per affrontare Una partita come questa E termina anche Il primo tempo Bene così ragazzi 2-0 per noi Cerciamo di continuare Così con la stessa attenzione Con la stessa verb Anche nella ripresa Caccio di Benedetto Palla lunga Momolu Può andare Momolu Momolu Sterza Molto bene Momolu Entra in area E va anche a colpire Col destro Qua bravissimo Momolu 3-0 per noi Dai ragazzi Dai che siamo entrati Negli ultimi mesi Della stagione Solitamente in questi casi Riusciamo ad andare Sempre in meglio di noi Speriamo che sia anche Questo il caso Perché ragazzi Abbiamo potenzialmente Un double Da conquistare Anche se sarebbe Veramente Clamoroso E a tratto impossibile E oggi Sonco Possiamo ancora andare Sonco Sonco Provata a zalla Per Momolu Buon il pallone L'appoggia dietro Per di Benedetto Che si inserisce Alla grande Madonna ragazzi Ci riesce Veramente di tutto Siamo rientrati Nella nostra Condizione di grazia Estrema Perché veramente Ci riesce Ogni minima Ogni minima cosa Qua Bellissimo Il tocco di Momolu Che lascia lì il pallone Di Benedetto col destro Apre il piatto E infila Il pallone in porta 4 a 0 È il momento di fare i cambi E ovviamente E ovviamente ragazzi In questo caso I cambi sono devastanti Perché entrano Bappé Il dragone C'è altro campo In attacco Bamba Conate E Durambilla Io ho Bamba Buono l'appoggio Conate Può andare Conate 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 Il destro Di Conate Che appena messo in campo Apre il piattone Anche lui E realizza Il go Dell'Amanita 5 a 0 Ovviamente ragazzi Fare dei cambi Del genere Può portare a tutto ciò E occhio Conate Possiamo avanzare Conate 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 Si ferma molto bene Il destro ancora di Conate E arriva la parata di Bidol E ok ragazzi Si chiude qua la partita 5 a 0 Nettissimo Contro lo Stoccarda Che Diciamo Se è sedicesimo In classifico Motivo Ci sarà Non stanno attraversando Sicuramente Una bella stagione Comunque vittoria nettissima Per noi Che ci fa rimanere A più 9 Dal Bayern Monaco Che andremo ad affrontare Proprio adesso In Coppa Ok ragazzi E' il momento Bayern Monaco Contro Arminia Bielefed 7 aprile 2026 Allora Siamo Penso all'Allianz Arena Quindi lo stadio del Bayern Monaco Sanderson Park Non c'è Il vero stadio del Bayern Purtroppo quest'anno E da un po' di anni A questa parte Se non vado errato Comunque Come detto Meglio formazione possibile Fatta eccezione per Beres Che giocherà fra i palli Quindi poi Abbiamo Marino Chiarodia Bamba Cagliotè Mbappé World Il Dragone Bamba Conatè E Durabil Tutto pronto ragazzi Scendiamo in campo E cerchiamo di fare La prestazione della vita E occhio Subito Abbiamo l'opportunità Con Bamba Che prova a mettersi in mostra Pronti via Inizia così La nostra Semifinale Di Coppa Contro il Bayern All'appoggio per Conatè C'è Marino Che può salire Vediamo un po' Marino Qua esagera E occhio Siamo pur sempre Che tutto il pronostico Conatè 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 Resce a resistere Alla copertura difensiva Poi prova il destro Arriva il miracolo Il miracolo Il sapataggio difensivo Da parte di Pavard E occhio al corner Si salva ancora il Bayern Comunque ragazzi Ormai il tempo Avanza E La situazione Non si sblocca Durantville L'appoggio dietro World A cercare Mbappé Che viene chiuso Comunque ragazzi A sto punto Facciamo i cambi Perché per come Si sta mettendo La situazione È chiaro che Tutto fa Presagire Che si potrebbe andare Ai supplementari Allora Io metto Sonco E Di Benedetto Secondo me Questi due cambi Per il momento Ci possono stare Aspetterei un attimo Per Conatè Perché effettivamente Il giocatore più stanco Andrebbe sostituito Però Voglio aspettare un secondo Voglio aspettare un secondo Voglio aspettare un secondo Non ci credo ragazzi Sarebbe stato bellissimo Sarebbe stato perfetto Ma niente da fare Possiamo ancora andare Sempre Conatè Conatè Ci può riprovare Conatè Ci può riprovare Conatè Ci può riprovare E non sbaglia 2-1 Arriva il gol del vantaggio Ribartato il Bayern Monaco Clamoroso finale Giocato da parte nostra Lì I steward Bellissimi Che provano a fermare Un qualcosa di invisibile Non so se ci avete fatto caso Comunque 2-1 Esplosione di gioia Da parte Del nostro pubblico Come soprattutto Del nostro tifosi Eccoli qua Cioè comunque Del nostro giocatori Comunque Eccoli qua Il nostro settore ospiti Gremito Di nostri tifosi Di nostra gente Qua bravissimo Conatè Che ho fatto bene A non sostituirlo Avanza fino all'area Vede Giustamente Bonu Che è abbastanza fermo Andava semplicemente Piazzato questo pallone E lui lo fa Con l'esterno destro 2-1 Siamo in vantaggio Clamoroso Conatè Che alla fine Riesce sempre A rendersi protagonista Adesso ragazzi Mancano tre minuti Sarebbe un risultato Clamoroso Soprattutto per come è venuto Perché ragazzi Non è stata una bellissima partita Non siamo stati esplosivi Come lo solito Anche il Bayern Non è che abbia offerto Questa super prestazione Una partita molto risicata Ma che sta per concludersi Con la nostra vittoria E c'è ancora Durandville Che è in avanti Ma Grazie a questo tiro Arriva anche il fischio Finale Dell'arbitro 2-1 Eliminato il Bayern Monaco Super vittoria Siamo In finale di Coppa Anche quest'anno Ok ragazzi Allora Ci salutiamo direttamente Qui dal calendario Perché abbiamo Qualcosa da dirvi Semplicemente Nella prossima puntata Andremo a chiudere Il mese di aprile E lo andremo a chiudere Affrontando Il Mainz Il Bayern Monaco Quindi ragazzi Di conseguenza Si potrebbe decidere Il campionato Perché se poi Vai a battere Di nuovo Il Bayern Monaco Vai A 12 punti Nel caso poi Un pareggio Potresti restare a 9 Quindi ragazzi È veramente Decisiva questa partita Anche in caso di sconfitta Poi avresti Un ottimo margine Ormai ragazzi Mancano 1, 2, 3 4, 5, 6 7 partite Al termine del campionato Quindi siamo Veramente in procinto La finale di Coppa Sarà contro il Wolfsburg Esattamente come L'anno scorso Quindi ragazzi Questo Lo prendo proprio Come un segno Del destino Che vuole farci Vindicare la sconfitta Dell'anno passato Ma quest'anno Siamo più forti Siamo più completi Siamo una squadra migliore E secondo me Possiamo Giocarcela Tranquillamente E provare a Battere il Wolfsburg E vincere Appunto La Coppa Un nuovo trofeo Il primo trofeo Se non sbaglio Il primo trofeo Ufficiale Se non calcoliamo Appunto Il primo posto In Dritte Liga E in Bundesliga 2 Quindi ragazzi Direi che per oggi Non posso far altro Che salutarvi qui Come sempre Vi invito A lasciare un mi piace Iscrivervi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram A sostenere il canale Il canale del rai Mettro di abbonamento E ad una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Ciao a tutti